Ciao a tutti ragazzi bentornati qui sul mio canale Oggi ragazzi siamo qua tornati in unissimo video su Formula 1 Mobile Racing Oggi ci aspetto una gara a Monza qualifiche più gara dopo la delundentissima gara Budapest Quella a Silvestrone In una siamo arrivati nono, siamo arrivati noni, in un'altra ci siamo ritirati Oggi vogliamo fare decisamente meglio come a Barcellona e a Spielberg Like, iscrizione e campanella Ripariamo la macchina, riparazione completa farei No, riparazione rapida Alla fine sono riuscito a riparare la macchina Dunque abbiamo una macchina per fare le qualifiche e andiamo E andiamo in qualifica a Monza Circuito senz'altro più semplice per trovare gli altri due Mi trovo bene in genere Tempo da battere 1.38.1 di Yo Kitsunada Proviamo a fare di meglio 3, 2, 1, via Si va, si va a Monza, subito un rettilineo Per arrivare alla prima curva Di questo circuito magnifico Eccola qui la prima curva Ok, allora finiamo discretamente bene Andiamo qui e pum La facciamo, secondo me, nel miglior modo possibile Mentre siamo a 18 Facciamo questo rettilineo Non è corto di certo Non è corto, noi seguiamo ovviamente tutte le traiettorie Che il gioco ci mette a disposizione Primo settore, primo settore, primo settore, primo settore, primo settore Facciamo 31 E però è arancione Cioè, vogliamo dire giallo, questo è un problema Però facciamo bene questo pezzo Altra curva, questa è più complicata rispetto alle altre Proseguiamo tutti i punti a traiettorie Non la facciamo per niente male Non la facciamo male Altra curva Anche questa Non stiamo andando male, secondo me Abbiamo fatto, secondo me, tutte le curve Nella maniera migliore Il DRS in arrivo E sfruttiamolo subito Stiamo andando comunque sul minuto praticamente Fino ad ora, secondo settore verde 32,4 Buon segno Ok, andiamo qui Facciamo questa curva fatta discretamente bene Forse qui ho perso quel decimo Forse qui scodando un pelino Ho perso quel decimo lì Dopo aver fatto la curva Ci aspetto un altro rettilineo comunque Eccolo qui Adesso ecco la curva La curva, la curva La facciamo bene Anche qui forse ho perso qualcosina In uscita Non so se Il tempo a parte era 1,38,1 Se non è Arriviamo un po' 1,35 1,36 1,37 1,38,9 1,38,9 Sono arrivati ventesimi Vediamo un po' il tempo Ah no, era 1,38,3 Abbiamo perso veramente tantissimo Nell'ultimo settore E vabbè E vabbè Ci aspetta un altro settore Subito la prima curva Freniamo Ok La facciamo Su me l'avevamo fatta meglio prima Ho questa sensazione Non so se sia così ma Su me prima l'avevo fatta meglio Non mi ricordo il tempo che avevamo fatto Il primo settore Nel giro precedente Che però non è bastato Vediamo un po' per metterci avanti A Yukitsunora Dal primo settore Facciamo un Uh Facciamo più o meno il tempo di prima 31 Forse un pelino meglio Ma siamo sempre lì Ma non facciamo un verde Noi lo accendiamo anche nel primo settore Perdiamo qualcosina Eccolo qui Adesso parte il secondo In realtà è già partita un po' Buona questa curva E Dobbiamo su dead Far bene Altra curva Arriva DRS Qui ho perso tanto Qui ho perso tanto Qui ho perso tanto E mi sa che questo giro non è Ottimo Perché ho perso Su me quei due tre decimi No Tre decimi no Ma due decimi In una curva Sì su me Ho fatto peggio E' un po' Secondo settore 33 3 Pessimo Secondo settore Giro da buttare E' arriviamo sul traguardo Il tempo è di Uno Cioè Il tempo che vedete lì È del giro precedente Non di questo In questo era Sarà stato 1.39 qualcosa Però abbiamo fatto Un secondo settore Pessimo Abbiamo perso tantissimi In una curva Ma ci aspetta L'ultimo giro L'ultimo giro Per metterci Al dicianno Al diciannovesimo posto In gara Vediamo un po' Prima curva Allora Freniamo Andiamo così E la facciamo Se non è meglio di prima Prima Mi ricordo il tempo 30 102 31 02 Comunque Allora Questo E' un rettilino Abbastanza lungo Si sta avvicinando La fine del primo settore Vediamo un po' Com'è il tempo Su me è meglio Su me è meglio Vediamo un po' Se questa sensazione E si Però è meglio Di 50 millesimi E' un verde E' un verde Su me ha fatto meglio La curva iniziale Prima avevo fatto 31 Ricopriamo Quei 50 millesimi Che comunque Pagano sempre C'è Un quel verde E' importante Averlo fatto Altra curva Intanto Altra curva Fatta Se non è Dignitosamente Alla fine E Ora andiamo Eccolo qui Ancora il DRS Molto molto Importante Ovviamente Per noi Eccolo qui Vediamo un po' Quanto facciamo nel secondo settore Se facciamo meglio Rispetto a prima Oppure no Facciamo 32 4 32 4 Super Tempo Nel secondo settore Prima abbiamo fatto 33 4 Recumuliamo tantissimo Nel secondo settore Rispetto a prima E per me abbiamo le chance Per arrivare al diciannovesimo posto Sappiamo che in qualifica La macchina Sembra un po' strana Quindi Va benissimo Anche nel diciannovesimo posto Vediamo un po' DRS in arrivo Ottimo questo pezzo Mi è piaciuto veramente Veramente tanto Vediamo un po' Qui ho perso forse qualcosina DRS che Dovrebbe arrivare a momenti 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 2 Mi sa di nulla Sì Ci siamo qualificati Al diciannovesimo posto Ce l'avevamo questa sensazione Superato Yuki Tsunoda E facciamo Un tempone Considerando Come andavamo in qualifica prima Diciannovesima posizione Ma è un circuito molto facile Questo Dove essere onesto Facciamo Sì Più o meno Quei 50 millesimi Che abbiamo recuperato Il brio settore Hanno fatto tutta la differenza Nel mondo Cioè anche i millesimi Veramente Pagano tanto Ok ragazzi Ecco la griglia di partenza Primo Verstappen Secondo Nel terzo Siamo al diciannovesimo posto Superate anche la Valtteri Bottas Trescesimi Però abbiamo recuperato Un bel po' Di posizioni Ma abbiamo Usurato la macchina Di parecchio Seppur contatti Gravissimi Non ce ne sono stati C'è Ricciardo Però subito In quarta dicesima posizione Ci vuole superare Daniel Ricciardo Che vuole prendere La nostra scia Ovviamente Primo settore Facciamo Un tempaccio Ovviamente Ho che la frenata Ok Superiamo Bottas Poi c'è il clerk All'undicesimo Andiamo in ghiaia Andiamo in ghiaia Andiamo in ghiaia E vi hanno superate A tutti Pazzesco Come rovinare Un sorpasso Che era fatto Incredibile Siamo a sedicesimi C'è Sargian dietro Che è attaccatissimo C'è Oscar Piastre Alla quindicesima posizione In quindicesima posizione Scusatemi Intanto c'è Sargian Proprio A due decimi Un decimo Da noi Ci vuole prendere La nostra scia Vediamo se ci riesce A superare C'è Oscar Piastre Non lontanissimo Ma neanche vicinissimo Buona questa curva Possiamo superare Oscar Piastre In questo tratto Lo vogliamo fare Eccolo qui Siamo attaccati Oscar Piastre Siamo più o meno A quattro decimi Ci vogliamo provare Ma c'è Sargian dietro Che è un pericolo Costante ovviamente Secondo settore Ovviamente è bruttissimo Sono Oscar Piastre Sono Oscar Piastre Sono Oscar Piastre Qui E prendiamo l'erba Prendiamo l'erba Era un rischio Troppo elevato Io ho sbagliato C'è Sargian Sempre dietro Intanto Scarpiastri Schiappa A otto decimi Circa E vabbè però Primo giro complicato Primo giro veramente Molto molto complicato Facciamo 37 E 6 Nel terzo settore Ci provo a Scarpiastri Ci provo a Scarpiastri A superare Un nostro avversario E' un po' frenata In chiodo contro Contro coso Non riusciamo a superare Non riusciamo a superare nessuno Per via del contatto C'è Magni C'è Sargian Che ci prova Eccolo qui Sargian Sargian ruota Ruota Sargian ruota 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 Corseggian Che non passa L'ho detto Cosa a caso Secondo il primo settore Diamo un po' Facciamo 32 2 Freniamo Gran frenata E superiamo Non lo superiamo Si Oscar Piastri Con un contatto al limite Anzi Togliamo la parola al limite Era un contatto Che senz'altro Ha danneggiato Oscar E che ha Nettamente favorito noi Ci stiamo avvicinando Intanto a Daniel Richard Vediamo un po' Se riusciamo a superare Noi siamo attaccatissimi Speriamo tutta La nostra Tutta la sua scia Vediamo un po' Se riusciamo a superarlo Andiamo a sinistra Andiamo a sinistra Andiamo a sinistra E andiamo qua E andiamo qui E Ricciardo ci risupera Disastro Cioè veramente Siamo andati in tutti i punti possibili Abbiamo veramente sbagliato C'è Sargian dietro Che ormai È il nostro pericolo Number one Cioè Ancora Ricciardo Lo voglio superare A destra E sull'erba E vabbè Sto sbagliando Sto sbagliando tantissimo Vediamo un po' Secondo giro Sta per terminare il secondo giro Ma Gara decisamente Più brutta Rispetto alla qualifica E un po' Ricciardo veramente Attaccatissimo Ci voglio provare Per la terza volta Andiamo a sinistra E Ricciardo ce lo lascia Ma noi Lo sbattiamo fuori Vabbè Cioè Ricciardo sempre quindicesimo E vabbè Guaiu Joe Imprendibile Comunque Da sottolineare Il gran tempo Nel primo settore 32 Grandissimo tempo Il nostro migliore in gara Ma questo non basta Perché concludiamo La gara Al quattordicesimo posto Visto che ormai Ricciardo ha più di un secondo Appunto Finiamo la gara Al quattordicesimo posto Guaiu Joe Era a più Cinque secondi Dunque era Detalmente Imprendibile Finiamo al quattordicesimo posto Ma in meritato assolutamente Visto che è finita la stagione E in AS Mi sono trovato bene Intanto andiamo a Barcellona A fare la qualifica Ho rinnovato il contratto Con l'AS E di questo Sono molto molto soddisfatto Voglio fare una stagione Voglio fare una seconda stagione in AS E poi valutare Il palcoscenico migliore Vediamo un po' 1.28.5 Il tempo a battery Di Yuki Tsunoda A Barcellona Rinizia la nuova stagione Rinnovate il contratto Con l'AS Credo che sia La dimensione giusta per noi Subito DRS in arrivo Lo vogliamo sfruttare E lo sfruttiamo Eccola qui La prima curva Di un circuito Che è più difficile Rispetto a Monza Ma rispetto all'altro È molto molto più facile Ok Facciamo un buon Tratto Vediamo un po' Primo settore Stiamo andando Comunque Stiamo andando E vediamo un po' 18 19 Quanto manca Vediamo un po' Primo settore Primo settore Primo settore E Non è verde 25.1 Adesso stiamo Ovviamente Facendo il secondo settore 18 e qualcosa Per ora Vediamo un po' Quando finisce Il secondo settore È lungo Questo circuito A Barcellona DRS in arrivo Comunque Mentre Siamo a 130 km orale Ecco il DRS Sta per finire Il secondo settore Vediamo un po' Quanto facciamo Perché facciamo Un tempo Intorno al 35 36.6 Mamma mia Nessun verde Questo è un grandissimo Problema Ovviamente È un grandissimo Problema Qui sbagliamo pure Male Altro giro Mi sembra che abbiamo avuto Due tentativi Eccola qui La prima curva La prendiamo però bene Andiamo 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 Con la nostra Ass Con la nostra Ass 121 km orari Eccoci qua Eccoci qua Vediamo un po' Quanto facciamo Il primo settore Vediamo un po' Poi partirà ovviamente Scatterà il secondo settore Facciamo un 25.1 Il primo settore Non è verde Brutta notizia Non è verde Voglio vedere Quello che faremo Nel secondo settore Ok Vediamo Quanto Questa curva Interna Interna E la facciamo Molto bene Secondo me Molto molto bene Andiamo così Ok Via Buono Buono Questo tratto Buonissimo Questo tratto Andiamo DRS in arrivo Comunque DRS in arrivo DRS in arrivo Che Arriva adesso Arriva adesso Vediamo un po' Quanto facciamo Il secondo settore Se non mi hanno fatto Un buon secondo settore Vediamo un po' Quanto Dicevamo a fare 36.5 Ed è verde Ed è verde Meglio rispetto al giro Procedente Sicuro Questa è una buona notizia Però Non so se basterà o meno Vediamo un po' Facciamo Facciamo qui Un bel tratto Ok la curva Non tagliamo Ovviamente Non tagliamo Andiamo Usciamo Scudando un pelino Ma ci siamo Vediamo un po' Quanto siamo arrivati In qualifica Tra poco Arriviamo Alla Alla fine Vediamo un po' Facciamo 1 29.0 Vediamo un po' Se siamo Diciannovesimi No Siamo ventesimi A più o meno Mezzo secondo Cavolo Perdo tanto Nel Prima e Nel terzo settore Ok affrontiamo subito La prima curva Vediamo un po' Come la facciamo La facciamo bene La facciamo bene Cavolo Un circuito che Ripeto Mi piace Mi trovo a mio agio Sì Sì dai Posso non dire così Sta finendo il primo settore Vediamo un po' Quanto facciamo Nel primo settore Primo settore Primo settore Primo settore Facciamo 24.9 Secondo me abbiamo fatto meglio Rispetto a prima Non mi ricordo Ma mi sembra Avrebbe fatto Leggermente meglio Ok Altra curva Comunque qua La prendiamo bene Ok 99 Siamo sui 120 km Orari circa Ora chiaramente Omenteremo Altra curva Tocchiamo Un attimo I bordi Ecco della pista Andiamo DRS in arrivo Vediamo un po' Quanto faremo Nel secondo settore Via con il DRS Comunque Via con il DRS Vediamo un po' Secondo settore Facciamo 35 5 36 9 Brutto Brutto Secondo settore Brutto Secondo settore E andiamo pure Sull'erba Addio Direi che Non ci siano parole Ok signori Ci siamo Tutto pronto Per Barcellona Sui motori Tutto pronto Perdiamo dalla ventesima Posizione Primo Max Verstappen Via 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 Buona partenza C'è Kevin Magnussen C'è pochissimo spazio Per superare Proviamo qui Ma qui dovrò Alzare il piede Mi sa Sull'Ando Norris C'è anche Albon Superato C'è Ricciardo Tocchiamo Sarjan Scusate Nel Albon Freniamo Tocchiamo pure Albon Neppure Valtteri Bottas Partenza Sì abbiamo recuperato Tante posizioni Ma ho superato Veramente a cavolo Ci stiamo vigilando Oscar Piastri Ci proviamo Qui Ci proviamo Di qua Vediamo un po' Anche su Lewis Hamilton Superato Superato Lewis Hamilton Che ci provava All'interno È impossibile È impossibile Teniamo la posizione Incredibile Incredibile Colpo di scena Clamoroso Alonso Ci sbatte fuori Almeno Per il momento Cioè Prima Voglio dire Incredibile Colpo di scena Clamoroso Finiamo 12esimi Secondo giro Della gara Ci avviciniamo Qui a Lewis Hamilton Che non è per niente distante C'è Oscar Piastri Che è a un secondo Più o meno da noi Peccato Rente Per Alonso Intanto Cioè Peccato per Essere andati Purtroppo fuori Per un momento Intanto Bella sta curva Beh Lasciamo molto Molto bene Su Lewis Hamilton Su Lewis Hamilton Su Lewis Hamilton Contatto Andiamo sull'erba Siamo passando Superato C'è Lewis Hamilton Che rispunta Ma no Andiamo avanti noi Siamo a 4 decimi Da Fernando Alonso Prendiamo tutta la sua scena Nel rettilineo C'è anche Lewis Hamilton Molto frequente Dietro Molto spesso dietro Voglio dire Bloccaggio Bloccaggio improvviso Bloccaggio improvviso Eci Qua parliamo tanto Madò Madò Che bloccaggio Abbiamo avuto LOL Madò Uuu Su Fernando Alonso Contatto Contatto Ha inchiudato Però non puoi inchiudare Se c'è una regola Che sanno pure i bambini Che tu non puoi frenare Cioè tu non puoi inchiudare Al centro della pista C'è Madò Fernando Alonso Inchiudato contro i noi 28 e 3 Nel terzo settore Ultimo giro Cioè Fernando Alonso Vediamo un po' Se riusciamo a prendere Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Niente Non riusciamo a prendere Vediamo un po' Uh Qui sbaglio Qui sbaglio C'è sempre Hamilton Che è dietro Che è dietro Che è ovviamente dietro Ma sarà dura Sarà veramente dura Sarà veramente dura Mantiene questo undicesimo posto Vediamo un po' Primo settore 25 5 Fernando Alonso Ci prova Fernando Alonso Ci vuole provare Peccato veramente Vediamo un po' Vediamo un po' Ci provo Ci provo Eh ma lui Ci vuole provare assolta Non so Su chi Non vedo Non vedo chi Vediamo un po' Forse su un pilota Ferrari Non lo so Vediamo un po' Su Fernando Alonso Siamo veramente a un decimo Due decimi DRS In arrivo Ci provo In questo punto Fernando Alonso va E mantiene la posizione Ruota ruota Con Fernando Alonso Vediamo un po' Freniamo E se lo superiamo Su Guaio Gio Altro Altro bloccaggio Clamoroso Tocchiamo Alonso E qui è colpa mia Chiaramente Due bloccaggi Clamorosi Mamma mia E uscita Praticamente Il fumo Dalle ruote Loll Su Guaio Gio Impossibile Qua impossibile Completamente impossibile E dunque ragazzi Ci siamo DRS In arrivo inutile Concludiamo La gara Al decimo Posto In classifica Cioè al decimo posto In questa gara Volevo dire Non ci facciamo superare Da Luis Ma che gara Ciao ragazzi Ciao ragazzi